Ho deciso di filmare il piccione Come il mio video Ma tu non l'avevi sentito, non sa quelle canzoni Non dovete fumare Altrimenti diventate come Beh, bello Dimmi caro In che nazione è nata Cenerentola? Italia? No Grecia? No Però ci sei arrivato vicino Egitto Ma non hanno le fiabe gli egizi Certo che ce li hanno le fiabe Gli egizi avevano le fiabe, ok? E la fiabe di Rodopi È praticamente quella di Cenerentola Dopo di quella c'è un'altra versione un po' più recente Cinese E la prima versione vera e propria di Cenerentola Che mantiene il titolo Cenerentola È italiana Di Basile Il più grande scrittore di fiabe di tutti i tempi Praticamente E si chiama Gatta Cenerentola Tutti nominano sempre il fatto che Lo sapevi che le sorellastre di Cenerentola Si tagliano le Non so Ah davvero? Non l'ha sentita sta cosa? Perché è girata tantissimo Si tagliano le dita dei piedi Per rinfilarsi il piede nella scarpetta E farcela stare Molto sadico Il problema Figlioli miei È che Non è l'unica cosa che Succede di Macabro Nel corso della storia Per esempio Nella versione Grimm Non è la fatta madrina A dare il vestito a Cenerentola Ma il fantasma è di sua madre Il vestito di Cenerentola È fatto d'oro Le scarpette Non sono di cristallo Sono di pelliccia Le sorellastre di Cenerentola Alla fine della storia Vengono accecate Dagli uccellini di Cenerentola Che gli strappano via Gli occhi con gli artigli Cenerentola Uccide la sua prima madrina Anche se non è del tutto intenzionale Nella versione originale I balli sono tre E non c'è nessuna regola Della mezzanotte Cenerentola se ne va Perché non vuole affrontare Il principe Ha paura Che scopra Le sue umili origini In più La poetica scena In cui lei perde la scarpetta Molte si chiedono Come fai a perdere la scarpetta Nell'edizione originale Il principe Cosparge le scale di colla Nonostante ciò In questo film C'è la scena preferita di Disney Quella della trasformazione Del vestito Di che colore è il vestito Di Cenerentola Azzurro Sbagliato Cioè Il vestito di Cenerentola Se lo ricordano tutti Azzurro Ma non è azzurro È bianco È vero Tutti lo ricordano Azzurro Perché Quando fecero Il vestito di Cenerentola Sotto forma di costume Per Halloween E Carnevale Le mamme non lo volevano comprare Perché era bianco Le bambine rotolano nel fango Io compro il vestito bianco Che si sporca subito Poi sembrano delle spose E quindi Decisero di cambiare Il colore del vestito in azzurro All'interno del franchise Quindi le bambole di Cenerentola L'hanno il vestito azzurro I puzzle di Cenerentola L'hanno il vestito azzurro E nell'edizione delle videocassette Tra gli anni 70 e 80 Pure il vestito di Cenerentola Era stato cambiato in azzurro Nella pellicola Per il ruolo di Cenerentola Si presentarono Ai provini Ben 300 nove attrici diverse E quella che venne presa Cioè Eileen Woods Non sapeva Di star facendo un provino Per Cenerentola E' un classico E se c'è un cipro di volte C'è un cipro di volte C'è un cipro di volte Che va lì Non sta al ruolo Io lo prendo E tu ci va perché Sei così bravo Cazzo Venne infatti Chiamata Dai suoi amici Per partecipare a questo provino Così Per forse teatro Non lo so Lei si presenta Ha le battute da dire Le ripete Presa Nonostante ciò Questa cosa è triste Lei Eileen Woods Invecchiando Ebbe l'Alzheimer E si dimentica ogni cosa E non riuscì a ricordare In alcun modo In alcun senso Di aver mai fatto Cenerentola Nel corso della sua vita E nell'ultimo periodo Della sua vita però Prima di morire L'unica cosa Che la faceva star meglio Era E nemmeno lei sapeva il perché La canzone di Cenerentola Nella sceneggiatura Nella sceneggiatura viene specificato Che il principe si chiama Henry Come ho già detto Nel video su Alice Nel Paese delle Meraviglie Vennero creati due team Rivali Uno che fece Cenerentola E uno che fece Alice nel Paese delle Meraviglie Disney voleva vedere Quale dei due team Avrebbe finito per primo Il suo film E quello di Cenerentola Era composto soprattutto Da giovani Mentre quello di Alice Era composto soprattutto Da vecchi Nonostante ciò Erano abbastanza equilibrate Vince Cenerentola Che non solo uscì per primo Ma fu anche il successo più grande Bello Nonostante ciò Spesero così tanti soldi Che se fosse stato Un insuccesso Cenerentola La Disney avrebbe dovuto chiudere All'inizio In Cenerentola Si pensava di fare in modo Che tutti gli animali parlassero Ma poi ci si è reso conto Del fatto che così I personaggi effettivamente Diventavano troppi E si decise di non far parlare Nessun animale Che non fosse un topo Poi 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 Nel film Lucifero muore Il gatto Sì Alla fine cade Dalla torre di Cenerentola E muore Che tristezza Era pensato per morire così In modo da anche richiamare La fine della strega di Biancaneve Ma poi si è reso conto Del fatto che era un po' triste Far morire il gatto E non la cattiva principale Eccetera Quindi In molti franchise Fra cui sì Quel viene fatto vedere Che no E' ancora vivo Però sappiate che Che l'intenzione iniziale di registrare Era quella Era la morte Emma Watson Poteva scegliere se fare Belle Della Bella e la Bestia O Cenerentola Per il film del 2015 E scelse bello Allora Come saprai benissimo Chi è a fare La fata madrina di Cenerentola In quello del 2015 Non l'ho visto E Elena Bonham Carter Minchia Devo guardare quel film Non l'ho visto Però devo guardarlo Appare poco Ma è memorabile Che ha fatto anche Per la Disney Per la Disney La regina Ah in Alice In Paese delle Meraviglie Ha fatto la regina rossa Esatto Ha fatto la regina rossa In Alice in Wonderland La stessa attrice Ha fatto La madrina Di Cenerentola E La Regina Di Alice Del Paese delle Meraviglie Anche con il classico regionale È la stessa attrice Quella Di prima Sì Nella inquadra d'animazione È la stessa attrice A fare la fata madrina La regina di Alice La regina rossa Il vestito Di Cenerentola Nel film del 2015 È fatto da Diecimila Swarovski Non è Vero Non è Vero Ok Che a fare Cenerentola Sia stata Marilyn Monroe Ok Non è Vero Ci doveva essere Una scena Con il matrimonio Di Cenerentola E del principe In cui ci doveva essere La fata madrina A fare da Prete Come si legge il nome? Lady Tremain Tremain Come se dicessi Tremendo Lady Tremain All'inizio del film Non so pronunciarlo Fa niente Però è pronunciato giusto Ok Doveva Avvelenare Il padre Di Cenerentola In un modo Molto sadico Cioè Non so in che modo Ma è molto sadica Come cosa Perché il villino È una delle cose Molto sadiche Praticamente Gli portava Il veleno Tutti i giorni Con la scodella Di zuppa Finchè non l'ha ucciso E poi venne tolto Perché era triste Farlo iniziare Già con una cosa Tra queste Quando già Perde il padre Era la madre Nel libro Nel libro La matrigna Di Cenerentola Non ha un ruolo Importante Ok Nella fiaba Non ha un ruolo Importante Così fondamentale È Disney Che pensava Che in questo film Ci fosse bisogno Di una cattiva L'attrice che fa Lady Tremain È la stessa Che fa Malifica In Cenerentola 3 All'inizio Doveva essere Genoveffa Ad avere una redenzione A dimostrare di essere buona Visto che nel 2 È Anastasia A dimostrare di essere buona Cenerentola 3 È il film Che dà l'addio Alla casa Che faceva I sequel Della Disney Non la casa di produzione Proprio quella In cui venivano create Che stava fallendo E decise Di fare Un ultimo film Facendo Cenerentola 3 Come avrete notato I topolini Chiamano Cenerentola Cenerella Questa scelta è stata fatta Solo per il labiale Perché Sindurella Cenerella Cenerentola Non stava nel labiale E finché lo dice la matrigna Visto che ha questo modo Di parlare molto austero Ci stava Cenerentola Ma con i topolini Diventavano molto più difficili Visto che lo dicevano Molto più spesso Dal tipo Cenerella Cenerella All'inizio In Cenerentola Ci doveva essere Un solo uccello Non tanti uccellini azzurri E questo uccello Doveva essere un corvo Nel film Doveva comparire anche Una tartaruga Chiamata Clarissa E doveva apparire anche Il professor Leluf Che doveva essere L'insegnante di musica Che praticamente Sapete Genoveffa e Anastasia Cantano molto male Doveva essere Lui Leluf L'insegnante Che doveva insegnare loro A cantare Ma con loro proprio Non ci riusciva E quindi iniziava A dare lezioni A Cenerentola Finché a un certo punto La matrigna Non se ne accorgeva Si incazzava E lo cacciava Questa è potente Finalmente una potente Il logo della Disney È il castello di Cenerentola Questa la sapevo Giuro che questa la sapevo Perché è pieno di gente Che dice No no è un castello ipotetico No no È il castello di Cenerentola Fecero un pesce d'aprile fantastico Annunciando ufficialmente Che avrebbero cambiato Il logo della Disney Anziché mettere il castello di Cenerentola Che ormai era datato Avrebbero messo il castello di Elsa Bellissimo Non ci stava però Ha troppe punte Il castello di Elsa Allora A pensarci Il nuovo logo della Disney È proprio il castello Fatto bene in CGI Sì È proprio il logo È vero E viene rifatto ogni volta All'inizio di ogni film Secondo le nuove tecniche Quindi se guardate Quel castello nel 2008 È fatto con una grafica peggiore Rispetto a quella di oggi Perché Molto Perché il team di ogni film Rifà il castello È per questo che così tante persone Hanno rifatto il castello In modo diverso Perché in molti film Disney Appare diverso Per esempio In Maleficent Il castello È quello della bella addormentata In La bella e la bestia Il castello È quello della bella e la bestia Akira Toriyama Dragon Ball Arale Niko Majin Che è la presa per il culo di Dragon Ball È bellissimo Bene Akira Toriyama Era così fissato con questo film Che per quello Majin Buu si chiama Buu Per quello ci sono Bidi Bi Bidi Bi e Buu Oddio è bellissimo L'ha fatto davvero perché era fissato con questo film A strassesso I sogni sono desideri Era una canzone pensata per spiegare Il surrealismo La metafisica E Freud Tutte cose che erano abbastanza recenti per i tempi Il signor Kevin Jonas O Kevin Jones O non so chi sia Ok Kevin Jones È diventato famoso perché ha regalato Come proposta di matrimonio alla sua ragazza Non un anello Ma una scarpetta di cristallo Odesto C'è una canzone eliminata chiamata Lavender Blue E in questa canzone la mamma di Cenerentola cantava una sorta di ninna nanna a Cenerentola E venne tagliata ma la canzone è ancora una canzone Disney ed è stata messa in tanto caro al mio cuore Con lo stesso titolo e lo stesso testo Lavender Blue Si dice che anche se non si sa ancora Non si è ancora certezza di ciò Ma che l'aspetto esteriore della fata madrina sia la moglie di Disney Per la carrozza Cenerentola la zucca La zucca Prima di trovare quella Stata scelta da Disney ci sono state 100 diverse carrozze tutte in legno Che però non hanno convinto Disney quanto quella a forma di zucca Che è abbastanza storica in realtà La parola zucca è lo shock che provoca Il castello di Cenerentola a Disneyland È molto basso Ma sembra molto alto Grazie a un gioco di prospettive I muri non sono delitti ma sono leggermente inclinati per farlo sembrare ancora più alto Tempi greci facevano questa cosa Esatto Come si è acculturato ormai Si hanno fatto bene 8 anni di superiori Inoltre è sempre più chiaro man mano che si sale Ed è tutto quanto un escamutaggio per farlo sembrare gigantesco quando in realtà è una cagatina minuscola Ai tempi in cui l'ha scritto doveva essere abbastanza pesante Cenerentola cazzo Certo che hanno l'ha scritto ma doveva essere molto pesante La fiaba originale Si Allora quella di Basile quella italiana è del 1500 Quindi l'originale ciao L'originale è tipo 3000 avanti Cristo Ottimo E la fiaba originale non è una serva ma una schiava Una schiava greca Egizia No no è una schiava greca Ah una schiava greca Sono È ambientato in Egitto E non anzi che il principe c'è il fareone Lei perde la scarpetta perché gliela ruba Horus mi sembra È una figata All'inizio Cenerentola doveva scrivere delle lettere Al principe per consegnargliele e continuare a tenersi in contatto con lui senza farli sapere che era una serva Ma Lady Trayman le scopriva e le bruciava Un'altra scena tolta è quella della malattia del padre Dove il padre moriva sempre di più per colpa del veleno E lei passava un lungo periodo soffrendo per il padre E c'era una lunga scena di sofferenza da parte sua E in quella scena c'era anche tutto il passaggio in cui si smetteva di chiamarla Ella Che è il suo vero nome E si iniziava a chiamarla Cinderella Cioè Cenerentola Ah sì sì Però non era necessario anche perché tutti sanno perché Cenerentola si chiama Cenerentola Al contrario del perché Pinocchio si chiama Pinocchio Non lo so infatti Bravo Un altro trucchetto molto carino di regia da parte di Disney E' che quando Anastasia indossa le scarpette di Cenerentola Fanno rumore Quando l'indossa Cenerentola invece no E' geniale perché sono fatte per Cenerentola Quindi quando Cenerentola cammina non c'è il rumore del cristallo che sbatte sul pavimento Quando l'indossa Anastasia si Perché non pensi che Cenerentola sia un bel film? Non ho letto che non penso che Allora Far partire i flame no? Certo Gara di freestyle Non è che non penso che sia un bel film Perché è un bel film sia tecnicamente che è un film della Disney Un classico Disney principalmente Tutti i classichi Disney sono belli Non mi è mai piaciuto particolarmente Per penso gusto personale Non lo so Forse era un po' troppo fiabesco per questi tempi Nel senso che adesso forse sono un po' troppi di film Con quel presupposto base Poi quello che c'è dietro ovviamente Varia milioni Però Cioè ce ne sono mille Come leggere i promessi sposi adesso Ok che bellissimo Ma ce ne sono 84 mila cose come i promessi sposi Poi quando l'ha scritto ovviamente i promessi sposi Era Oh mio dio adesso Sto 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 leggendo i promessi sposi Voglio ucciderti Perché è scontato Dalla prima scena All'ultima Cenerentro era molto innovativo per l'epoca E Non sembrerebbe Perché sono cose che ormai diamo per scontate Ma Effettivamente Era coraggioso Era coraggioso Negli anni 50 In cui c'erano le memmi africane Nelle case dei bianchi americani Parlare della Serva Che Si emancipava E si è vero Molti hanno chiesto Perché Nel finale Cenerentro non tira un bel pugno in faccia All'editra e me Che se lo merita Due cose La prima è Stiamo parlando di un pubblico di bambini Che poi dovrebbero prendere a pugno in faccia Alla madre Perché gli ha chiesto un favore Giusto così Secondo Se Cenerentro come personaggio È una che ha subito Per Decine di anni Le angherie della matrigna Com'è possibile Che semplicemente perché si sposa Improvvisamente Non le subisca più E la picchi Perché non l'ha fatto prima Non ha senso che solo per accontentare voi Nel finale Automaticamente le tiri un bel pugno in faccia Certo che se lo meritava Certo che avrei goduto pure io Come un maiale Però Non Non sarebbe stato Sensato effettivamente No? E beh Molte persone dicono Eh ma In questo modo le bambine Penseranno che sia giusto Farsi sfruttare No Penseranno che sia giusto Evitare di farsi sfruttare Senza necessariamente Picchiare la persona Che ti sfrutta Evitare di farsi sfruttare Dalla base Se farsi sfruttare tutto il tempo Consiste nel finire Male in questo verso Non farti sfruttare dall'inizio E non è assolutamente una cosa sbagliata Direi che non è affatto una cosa sbagliata I piccioni Hai quello di prima Hai finito con i piccioni ti ricordi? No quello di prima Non hai finito con i piccioni Ho iniziato questo con i piccioni Hai iniziato questo con i piccioni? Ho iniziato questo con i piccioni Non c'è un classico Disney Piccioni e i piccioni? Certo Quale? Bolt L'hai visto? Sì ma non mi ricordo i piccioni